Amici di Moviland Park rieccoci, eccoci qui dopo il bellissimo spettacolo di 007 che ha visto protagonista, anche uno tra di voi, ora vi chiedo di essere tutti voi i protagonisti. Ecco qui la nostra ballerina Silvia che tra poco interpreterà il ruolo di Flashdance, chi non conosce questo famoso film, io vi chiedo semplicemente di tenere il tempo all'unisono con un schiocco di vita, facciamo una piccola prova signori, forza, forza, tutti quanti signore un incoraggiamento, su, schiocco di vita, la prova è riuscita perfettamente, quindi se dalla regia lo schiocco di dita è arrivato anche in regia per tenere il tempo del nostro spettacolo, forza signori insieme a me diamo il via a Flashdance. Un auguro un altro, un tanto, un tanto, una piashà aperta che slobbero, non ci Vanavano, secondo te rimana il controllo, per le conosci di uno di color era. Le non abbiamo tutti i nostri sono tutti gli accordi ma obtrugali... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.